Dr. Frankenstein Frankenstein Vuol prendermi in giro? No, si pronuncia Frankenstein Allora dice anche Frederike No, Frederick Beh, perché non è Frederike Frankenstein? Non lo è, è Frederick Frankenstein Capisco Tu devi essere Igor No, si pronuncia Igor Ma mi hanno detto che era Igor Beh, avevano torto, non le pare? Eh, ma ti ha mandato a Gerrosenthal, non è vero? Sì, mio nonno vede lavorava per suo nonno una volta Che carino Naturalmente il compenso adesso è triplo Naturalmente, naturalmente, sono certo che andremo molto d'accordo Oh, scusa, io... Eh, non voglio metterti in imbarazzo ma sono un chirurgo di una certa bravura Potrei forse aiutarti con quella gobba Vale, gobba Si, va Lasci fare a me, padrone Grazie, fin Grazie a tutti Grazie a tutti